sinceramente no, non ci sto mi dispiace, non ci sto così non si può giocare prenderò provvedimenti assolutamente mi dispiace, non ci sto così non si può giocare calcolate che stiamo a frema tutti siamo tutti un po' cagati in mano bevendo la coca cola quando al minuto 4 e 20 vedo lo slenderman veramente no, non ci sto mi dispiace, non ci sto così non si può giocare prenderò provvedimenti assolutamente si è delle merde e voi giustamente adesso vi domanderete ci ma perché tutto questo o no perché mi volevo divertire da un po' di tempo che volevo fare una cosa